Per me è un sogno che si realizza, perché Napoli Milionari era il titolo che avrei voluto fare da sempre, infatti con Roberto io parlai immediatamente dopo Filomena, Napoli Milionari non ce l'abbiamo ancora quel titolo, infatti è un testo straordinario, una prova incredibile da affrontare perché dicevo in alcune interviste pure con Vanessa che paradossalmente Filomena per certi versi era più semplice nel senso che aveva una drammaturgia con 3-4 colpi di scena incredibili che si susseguivano nei primi 20-25 minuti, quindi ti aiutava a lanciare tutta la storia. Questo è un dramma, una commedia che tu devi affrontare da pubblico seguendo i personaggi nella loro crescita, nella loro progressione, sono personaggi che nascono in un modo e finiscono in un altro modo, che cambiano ed è quello che succede poi durante un evento tragico come la guerra, Edoardo vuole raccontare che l'animo umano cambia, quindi le macerie non sono quelle dei palazzi che sono caduti ma sono macerie interiori che ti porterai per tutta la vita, le scorie che ti lascia la guerra, Edoardo lo racconta in maniera straordinaria, incredibile e lo fa immediatamente dopo la guerra, erano appena entrati gli alleati e quindi siamo abituati al racconto trionfale degli alleati, della festa, però la guerra è altro e quindi poi ci sono queste frasi che sono rimaste iconiche ad Abassanottato, oppure la guerra non è finita, non è finito proprio niente, quello lo trovo incredibile, attualissimo, quindi per me era un sogno, un sogno che si è realizzato e quindi da attore avevo questo sogno di recitare questa frase.